Confermo questo esposto, noi consideriamo che il Comune di Cepagatti abbia esorbitato le proprie competenze nell'effettuare questa conferenza di servizi e contestiamo le risultanze sulla scorsa della documentazione presente agli atti. Noi ci aspettiamo che la magistratura penale intervenga su questa questione e che poi da un eventuale intervento da parte della magistratura penale possa emergere documentazione utile da usufruire nei giudizi al TAR che andremo a presentare sia a sostegno del ricorso proposto dalla Regione Abruzzo contro la stessa conferenza dei servizi e sia in via autonoma di impugnazione della voltura effettuata dal suo appiettino ortonese delle licenze in favore dell'asile costruzione. Siamo determinati ad andare avanti e a porre in campo azioni a contrasto di questo progetto che come ampiamente esposto durante la conferenza stampa presenta delle criticità. Io voglio solo far riferimento che per me è significativo al giudizio del Comitato Via del 23 marzo del 2017 dove il giudizio con il quale il Comitato Via afferma che nel frattempo sono intervenute delle modificazioni a livello idraulico, infrastrutturale, socio-economico e che quindi quella autorizzazione del 2012 seppur con prescrizione non è più efficace.